Oggi siamo qua con i tour operator e con la stampa new yorkese, ma non solo, per promuovere la nostra regione, quindi capirete giornate intense ma interessante. Siete brillanti, sono posti bellissimi, delle storie meravigliose, cucina fantastica, persino San Daniele dove mi sono, non riuscivo più a fermarmi da mangiare cose che io non faccio abitualmente, i vostri vini. E i poteri, ovviamente ho già coccato per te, come Rachel Ray. Che vai dal nord al sud, a Trieste, a Udine, in Carnia e mangi paste fatte in casa, paste fresche, dolci e ogni zona ha qualcosa di diverso. Non puoi dire cosa c'è uno, due, tre ingredienti. No, perché la regione è tutta da provare, tutta da gustare. Mi ha affascinato l'America e devo dire che è andata molto bene. Questa era l'ultima data, è stato un successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.